Io domani mi gioco l'esame della laurea. Bene, grazie. Grazie a tutti. Però non mi devi prendere il tuo riforme perché se no ti sduraglio. Non sdraiarmi, non sdraiarmi. Guarda in camera, vai. Non aspetta. Ragazzi, dopo i momenti per sapere. Scusa, Gesù. Non sono in Gesù. No, però le assomigli molto. Volevo chiedere se ti interessava della cocaina.